Oh, 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 questa è bella, eh, questa è una novità bella, eh, qui ci siamo, eh, wow, baby, e ditemelo che c'è anche la console, dai, per favore, nuova season, ricochet anti-cheat, black cell, tutta la stagione a tema black cell con il nuovo battle pass, ci sarà un nuovo battle pass anche espandibile al black cell, il black cell costerà 30 euro anziché 10, il battle pass è nuovo, e costerà un po' di più, e semplicemente ci saranno più contenuti acquistabili direttamente lì. Nuove armi, intervention, perfetto, poi abbiamo il cronin squall battle rifle, quindi un fucile da battaglia nuovo, ok, abbiamo un bel nerf alla ISO, piccolo buff alla M13, gli aggiungono danni, lo rendono più un assalto, più simile a un assalto, e poi abbiamo STB 556, baffata, TAC 56, baffato l'headshot, F-TAC Recon, leggermente baffata, ma vabbè, non credo che entrerà molto in meta, LH7S2 ha incrementato il movement, SO14 ha incrementato il movement, TAC V, eh, leggermente baffata, resa anche più veloce, la basilisk nerfata, RAL, headshot damage reduced, quindi RAL, nerfato il danno, semi auto, ah, per questo non ci interessa, cioè gli hanno baffato le statistiche in semi automatica, ok, close mid damage reduced, quindi il danno del ripick up da close range, da medium range ridotto, leggermente, vabbè, non so quanta utilità ci sarà, poi abbiamo, mitragliette, BASP, aumentato la velocità di entrata in mira, aumentata tutti i range del danno, minimo danno sull'armatura, perché, ma perché fanno sta roba di semi auto firing mode, cioè hanno baffato tutte le armi quando sono in semi automatica, non capisco il senso, questa cosa non l'ho mai vista fare, è onesto, però vabbè, l'hanno, l'hanno, hanno fatto sti buff, boh, una cosa un po' a caso, poi, nerfato l'MP5, quindi leggermente, allora, nerfato l'headshot che aveva un damage range, un moltiplicatore sull'headshot altissimo, mx9, baffato lo sprint to fire, Vaznef, decrementato il danno all'headshot, Vell, incrementato il danno all'headshot, basilisk, nerfate le snake shot sulle basilisk, esplosivi, adesso, allora, questo è molto importante, adesso i proiettili esplosivi renderanno qualsiasi arma bolt action, quindi si intende cecchini bolt action, se avranno equipaggiati i proiettili esplosivi, butteranno giù in un colpo un player che ha full piastre e full vita, quindi con un colpo si potrà buttare giù un avversario, quindi un cecchino potrà battere giù un avversario, solo e esclusivamente se hai danni esplosivi, hai proiettili esplosivi, però, una cosa molto importante, il signal non shotterà in testa, il signal rimane il cecchino che ha bisogno di due colpi per buttare giù un avversario. Poi, hanno aumentato la movement speed quando si utilizza dei caricatori piccoli, e a tutte le armi, e anche lo sprint to fire, quindi più il caricatore è piccolo, più si entra in mira velocemente e più si passa da scatto a fuoco velocemente e più si ha la movement speed più alta, quindi più abbiamo l'arma leggera e più si corre veloce e più, classica cosa, però ancora di più adesso, ok? Come sempre, però ancora di più, ok? Ok? Diving, fire, delay, reduced. Quindi, quando ci tuffiamo, dal momento in cui ci tuffiamo, ci sarà più veloce entrare in, come si dice, entrare in mira, ok? Potrei sparare dopo essersi tuffati, sarà più veloce, è stato velocizzato. Poi, lo slide è stato velocizzato, quindi la speed, la velocità della scivolata è stata incrementata e di conseguenza sarà più veloce. Sei da play? Sì, oggi sono da play. Nerfate le claymore, nerfate le flash, quindi quando tiriamo una granata sarà più difficile uccidere un avversario con un solo colpo, cioè con l'impatto diretto. Ridotto il danno delle mine da prossimità, bene, meno male. Soprattutto ridotto quando siamo craucciati o sdraiati, ok? Poi, quando lanciamo una semtex e la attacchiamo all'avversario e l'avversario è a terra, quest'avversario morirà. Quindi se io attacco, se c'è un avversario a terra, io gli attacco la semtex, prima non moriva. Adesso d'ora in avanti morirà, quindi ottima cosa questa cosa qua, soprattutto nelle private. Molto, molto interessante. Anche se è artificiere, questa cosa non è specificata, dovremmo provarla. Ma Stefano, il Kronos è stato rimosso dal gioco, è stato bannato il Kronos, è stato rilevato e ora non è bannabile il Kronos. Cioè se tu entri in gioco e c'è il Kronos non ti fa giocare. Quindi è stato bannato come cosa il Kronos, non esiste più. Lo slide cancel non c'è, no ragazzi. Hanno messo un po' di modalità, hanno cambiato un po' le modalità della CDL, ma quello lo vedrete lì per lì. Hanno cambiato un po', boia quanta roba hanno fatto, boh vabbè, robe. Hanno fatto robe su The Ranked, non so bene. Dai, non ho voglia di leggerle, non mi interessa molto. Warzone 2, mappe. Ashika Island. Cambiato qualcosa su Ashika c'è una barca presente nel porto. Hanno messo le piastre tremprate. In pratica quando andiamo in giro potremo trovare a terra una sacca di corazze, ok? Che sarà... avete presente quella lì che vi dava le piastre viola e le piastre blu? Ci dovrebbe essere una cosa identica e praticamente questa cosa qua vi darà le piastre temprate, ovvero delle piastre che anziché darvi 50 di vita vi danno 75 l'una e quindi saranno più veloci da mettere, quindi invece che mettere come su Warzone 1 tempra, esatto, solo che sarà una roba da trovare in giro, ok? Quindi avremo due piastre da metterci anziché tre e saranno entrambe da 75 invece che da 50 l'una per tre, ok? Ne metterai solo due, quindi sarà più veloce ripiastrarsi e sarà molto comodo. Non lo mettano come perk, ma lo mettano come zaino da trovare in lutta a terra, quindi molto molto buono. Invece ci sta, raga, un po' più randomico. Spero che almeno gli avversari lo droppino. Questa cosa non è specificata, la vedremo. Speriamo che magari gli avversari lo droppino, di modo tale se uccido un avversario, in pratica lo droppa e io lo posso raccogliere, perché se lui lo equipaggia e se muore però non lo droppa, allora vuol dire che è una cosa unica che trovi a terra e te la metti, fine. E però non lo puoi più avere, cioè non lo lutti dagli avversari, è solo culo in pratica. Quindi non va a favorire se io vado a fare una kill, ok? Poi, bilanciamento al drone bomba, è stato reinserito il drone bomba. Non butterà giù un avversario se è pieno di piastre, è full vita, è full piastre, non andrà a terra. Poi abbiamo i ciopperoni grossi, tornano di nuovo. I elicotteri grandi, non mancavano a nessuno ma li hanno rimessi. Molto più facile buttarlo giù. Però è tornato. C'è Verdansk e Reberta? Interrogation. Ah no, è stata baffata l'interrogazione. Ok. L'interrogazione è stata baffata. Ok. Questa ci sta, è stata velocizzata e baffata l'interrogazione. Non si sa niente sugli Shadow Banner, ragazzi. Verranno pingati in modo differente gli avversari dell'UAV avanzato verranno pingati diversamente i player reali dai player bot. Quindi molto molto utile questa cosa qua. Ok, adesso quando ci sarà un bombardamento, anziché esserci al centro dello schermo che ci dà noia, no? Che ci dà noia quando spariamo, praticamente sarà in una posizione diversa, probabilmente più in basso. Molto probabilmente. Quindi verrà mossa la posizione di quando riceviamo un bombardamento. Quindi sarà leggermente diverso. Playlist. Abbiamo duo, trio e quad su Almazra. Non ci sarà singolo, ma ci sarà ritorno massivo, quindi ritorno, su terzetti e quartetti. Ci saranno quindi cinque playlist di Almazra. Non c'è più singolo, c'è duo, trio, quads, trio con ritorno e quad con ritorno. Quindi cinque Almazra. Su Ashikailan ci saranno le solo, le due e le quad. Quindi non ci sarà trio. Poi ritorno su Almazra, classico. Quindi stessa cosa di ritorno però su Almazra, fino alla quarta safe, rinasci. Oh! 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 Questa è bella, eh! Questa è una novità bella, eh! Qui ci siamo, eh! Alle sei esce l'aggiornamento. C'è una novità figa, raga! Allora. Intanto c'è private su Ashikailan, solo duo, trio e quad. Ok? Quindi privata. Privata classica su Ashika. Ok, va bene. Dovevano farlo. Poi hanno fatto modalità privata inspectating. Cioè posso, d'ora in avanti, per questo è più che altro una cosa per gli streaming, per gli streamer, per gli streamer, che fanno magari eventi o cose del genere, anche un, una roba del genere. Questa è molto da streamer, ovviamente non impatta molto voi, però è molto, molto figa, secondo me, a livello contenutistico. Potremmo finalmente realizzare delle private e metterci come spettatori. Cioè, io dico, faccio una privata, ragazzi, oggi facciamo una privata e guardo voi giocare. Ok? Per cui, ad esempio, io mi metto lì, starto la mia partita e non ho bisogno di autof, 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 incidermi, ma posso guardare direttamente di voi. Quindi posso spettarvi e passare da una squadra all'altra probabilmente. Bisogna vedere i dettagli. Però molto, molto figa questa cosa. Molto, molto divertente, soprattutto per i tornei. E... saremo fighissimo. Saremo, saremo spettatori delle varie modalità. Quindi, soprattutto per chi fa spectating, molto, molto bello. Questa è una novità molto, molto figa. Rabbit ritorna? No, anonimo non torna. È tornato il perk... Com'è che si chiama il perk... Quello lì Occhi di Falco? 18 giga. È tornato il perk Occhi di Falco che adesso si attiva ogni volta che un player utilizza una killstreak, uno wav, però lo wav nemico non sarà più utile. Cioè, nel senso, se qualcuno tira uno wav nemico non è che vedo, uso, sfrutto anche il suo wav, non è più possibile. Renderà semplicemente lo wav uno wav avanzato, quindi niente di più, niente di meno. Niente di particolare. Nuovo gulag, poi ci sono le torri wav, i droni da rischieramento, cos'è questo rumore? Buy station, sono stati cambiati i soldi nelle buy station, ci sono un sacco di cambiamenti, non ho voglia di leggerli. Spawn protection su ashika cambiato, un sacco di roba su dmz, non ce ne frega un cazzo, andiamo a giocare, basta. C'è il cecchino nuovo, ragazzi, prima cosa di tutti. Eccolo qua. Boia! Cazzo, l'intervention, quanto è bello! Allora, come si sblocca? come si sblocca? Come si sblocca? Unlocked nel battle pass. No, 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 devo comprare il battle pass immediatamente. No. Allora, facciamoci subito una classe col cecchino, allora. Facciamoci una classe col cecchino che è sciotta. ci facciamo un mcpr al volo con gli esplosivi, ovviamente, che io non ho, perché devo portare l'mcpr al livello 29, che io ce l'ho al 28, perché l'mcpr mi sa che gli hanno aggiunto un livello per farti shottare, per mettere l'accessorio, quindi userò il victus a sto punto. Si mette il victus perché gli hanno aggiunto un livello per avere gli esplosivi. Ah, quindi aumentiamo la bullet velocity, la damage range, facciamo, qualcuno c'ha il set per victus? Vabbè, me lo faccio al volo, ragazzi, nel senso. Com'è l'aggiornamento? Ma a livello di mobilità, a livello di gunfight non è cambiato nulla. Questo è il dolphin dive, non è cambiato praticamente zero. Questa è la scivolata, la scivolata è questa, anzi. Forse c'è le impostazioni scazzate. Vedete, è leggermente più veloce, basta. Questa è la torretta Wav, me sa. Costa 2000 dollari, attivi lo Wav qua. Etta gratuita al mio canale, e non avere pubblicità. Mirko noise! Che ci fai qua, Mirko? Mirko! Woo! Woo! Baby! E ditemelo che c'è anche la console, dai, per favore! che c'è! E qui c'è, e qui c'è! Grazie.